Vasto Girardi Avezzano, stadio di Tella, secondo minuto di recupero, in tribuna un tifoso della squadra morisana si accascia a terra, l'arbitro, la pugliese, Cristiana, la raspata, si accorge che qualcosa è successo, capisce che c'è un uomo in difficoltà, chiede e ottiene che venga aperto il cancello, che dà sulla tribuna, corre verso l'uomo e inizia a praticargli il massaggio cardiaco. E' una dottoressa, sa come prestare soccorso, pochi istanti e in tribuna arriva l'ambulanza che era presente al di Tella, c'è anche il medico sociale della squadra di casa, l'uomo, 68 anni, di Villa San Michele, cardiopatico, viene trasportato urgentemente al caracciolo di Agnone, quando arriva in ospedale non c'è più nulla da fare, muore in ambulanza, nel frattempo l'arbitro eroe fa riprendere il gioco per qualche minuto, vince il vasto Girardi, ma la gioia per i treppi e soffocata dal dolore.